Ecco, dottor Vitali, investire in Italia è sempre più difficile, l'unica strada possibile e fattibile potrebbe essere spostarsi all'estero. Ecco, qual è la meta più fattibile in questo momento per un imprenditore marchigiano che voglia investire all'estero? Allora, prima di tutto vorrei precisare una cosa, che i settori di investimento e le nazioni di riferimento per questi settori debbano necessariamente tener conto della situazione proprio di un'azienda, il prodotto che praticamente è il suo prodotto cui commercializzare, quindi produrre eccetera. Uno dei settori che qui è molto vicino a noi, che è caratteristico proprio della nostra zona, delle marche in genere, è il settore dei mobili e il settore ovviamente del fashion, calzature e abbigliamento. Per l'esperienza professionale, proprio recentemente mi sto occupando di un caso di un'esigenza di un imprenditore che vorrebbe portare avanti un discorso di produzione, magari di una seconda linea, perché le prime linee devono avere necessariamente il riferimento al Made in Italy, per cui una necessità di produzione in Italia rimane ancora, però a seguito di una struttura magari organizzativa, e qui possiamo fare un esempio di un imprenditore, dice che ho a disposizione già la rete commerciale e tutta la mia organizzazione, inserire una seconda linea più economica potrebbe portarmi ovviamente all'aumento del fatturato, della redditività aziendale e così via. E quindi a questo punto io ho individuato perché ho potuto vedere con mano, ho avuto altre esperienze professionali in tal senso che l'Albania oggi come oggi risponde a una nazione dove si potrebbe investire e si potrebbe ottenere i vantaggi che sono così presupposto. L'Albania offre situazioni di assoluta convenienza, tipo interventi anche diretti dello Stato per la formazione con contributi a fondo perduto, assistenza per gli immobili dove esercitare ovviamente l'attività, il costo della mano d'opera, abbiamo un costo della mano d'opera mediamente stimato sull'ordine delle 300 euro mensili a fronte dei costi della mano d'opera che sappiamo quelli in Italia, compresi i contributi, non ci sono problemi per il licenziamento, magari questo è forse l'ultimo dei problemi. La mano d'opera è abbastanza inserita in questo settore, è reperibile quindi mano d'opera non dico specializzata ma sicuramente che già opera in questo settore.